È stato un intervento diverso da quello dello scorso anno all'arto sinistro, ha spiegato il dottor Mariani in seguito all'operazione al ginocchio di Arkadiusz Milik, perché erano interessati più punti. Il ragazzo era logicamente demoralizzato. Il giocatore polacco tornerà in campo presumibilmente intorno alla fine di febbraio, ovvero tra i quattro, e i cinque mesi dopo l'infortunio dell'altro giorno. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.